Doppio appuntamento a febbraio con il disegno e la sceneggiatura professionali attraverso masterclass tenute da due grandissimi nomi del settore e aperte a tutti. Accade a Nuoro, grazie a Cadacontu, progetto dell'ISRE finalizzato a rappresentare al meglio la biodiversità artistica del fumetto in Sardegna sotto la direzione artistica dell'artigiano di storie nuorese Emanuele Mureddu. Si tratta di due opportunità preziose e uniche in Sardegna per approcciarsi alle tecniche del disegno e della scrittura attraverso la guida di nomi italiani prestigiosi. Si parte sabato 8 febbraio presso il Museo del Costume in Uro con la masterclass di disegno ad aiutare i partecipanti a sprigionare la propria creatività con la matita Silvio Camboni, giornalista, architetto e soprattutto disegnatore per la Walt Disney Italia e per altre importanti testate. Secondo appuntamento sabato 15 sempre al Museo del Costume quando Pasquale Ruiu, autore di Dylan Dog e sceneggiatore di storie, tra gli altri per gli albi di Nathan Never, Martin Mister e Tex, permetterà agli aspiranti scrittori di storie di sperimentare e modulare la propria scrittura. Un coinvolgimento diretto del pubblico che si fa fiore all'occhiello del progetto Cadacontu, nato con una residenza artistica nell'aprile 2019 e trasformatosi in un grande contenitore artistico presso il Museo del Costume in Uro, presso il quale fino al 29 febbraio è anche visitabile l'esposizione che dà spazio a circa 40 professionisti del fumetto sardo e a 150 opere. Entrabbe le masterclass a numero chiuso sono aperte a chiunque sia appassionato o curioso di avvicinarsi alle tecniche del disegno e della scrittura. Per iscriversi è necessario inviare una mail a cadacontu-gmail.com indicando nome, cognome, età e numero di cellulare del partecipante.